E' nel quartiere Providenza, proprio nel giardino del progetto pilota, che i rifiuti tornano al centro del dibattito cittadino. Nei giorni della settimana santa erano stati proprio i residenti del quartiere a segnalare sui social il problema. Così, con un video sul suo profilo, il presidente del comitato del quartiere Marco Darma, dopo aver ripulito quello che alcune persone avevano lasciato, ha anche risposto ai leoni da tastiera che hanno offeso i residenti. Alcuni giorni fa cito un articolo di giornale dove praticamente si vedevano bottiglie, piatti di plastica, insomma sporcizia intorno al prato. Ecco, adesso è tutto pulito perché in dieci minuti ho raccolto tutto quello che vedete. C'erano lattine, piatti di plastica, mozzicone di sigarette. Come vedete adesso è tutto in ordine e tutto è ritornato il verde come era il giorno dell'inaugurazione. Volevo dire a quelle persone che si divertono anche nei social, adesso non mi ricordo chi era il nome, non me lo ricordo, che ha detto che cosa vi aspettate dalle persone che abitano lì. Lo trovo sicuramente una frase ingiusta e una frase senza senso, assolutamente, perché quelle persone che abitano qui non sono degli animali, assolutamente, sono delle persone civili. Chiara la richiesta del Presidente del Comitato di quartiere e l'amministrazione di dotare la zona di cestini per i rifiuti e alla Dasti di intervenire per raccogliere i rifiuti stessi, considerato che non si tratta più di un cantiere ma di un luogo che sarà sempre più abitato.